Per tutto il tempo semplicemente applaudiamo Basta fare rumore Dopo l'ultima sfida in compagnia di Sbucci e Tudor Dove avevo raggiunto 18 risposte corrette consecutive Oggi a grande richiesta vi ho portato la Sofia Ciao a tutti Che è muta per l'occasione Non parlerà in tutto il video Faremo più di 18 Se volete altri appuntamenti anche in compagnia dei mates Per vedere quale sarà il record più alto in assoluto Arriviamo a 30.000 mi piace Mi fido di voi Spolliciate ai commentari Scrivetevi alla campanellina E buona visione Bene ragazzi Questa è Stephanie e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale Ci sfideremo ad higher and lower gain Come vi abbiamo detto già 8 volte all'interno di questo video Dobbiamo decidere solamente se io contro di te o insieme Tutti loro ormai conoscono il gioco Dobbiamo decidere quale fra le due opzioni è più ricercata all'interno del web Per esempio ora giocheremo insieme questi primi round Barcellona molto di più di cheap flight Paul Pogba è un calciatore ma è sicuramente meno di 6 milioni Perché devi tenere in considerazione tutto La Spagna può avere più ricerche di Paul Pogba Infatti la Spagna ha 800 Spagna o Golf? Il Golf secondo me è uno sport ricercato anche solo magari per scoprire le regole Però meno della Spagna E invece abbiamo perso 1 milione e 8 Il Chihuahua vola di sotto dal divano Zinedine Zidane o Caitlyn Jenner? Eccoci Secondo me Caitlyn Jenner che è famosa credo no? Infatti San Laurent Secondo me Caitlyn Jenner Se non mi sa allora Devi fidarti di me magari Sono esperto Lennox Lewis Lewis Chi è? Infatti meno Eh Qua non c'è proprio gioco Paypal tutta la vita 30 milioni Pensa quante volte viene cercato Paypal per fare i pagamenti Paypal free climbing Non ci pensa neanche Sa già la risposta 30 milioni contro 12 mila Per quanto sia 12 mila tanto in generale Soprano sarà di più 200 mila ricerche Siamo già a 7 I cani in questo gioco hanno una marea di ricerche Quindi io andrei sul sicuro Cosè Mourinho è un allenatore molto conosciuto Io andrei sul meno Anch'io Però probabilmente perdiamo Sappilo E invece Cani West Spara vai Ayer tutta la vita Secondo me Lover Quanto ti farei il culo in questi giochi? Boh sì Caspita è Bei brutto Stano incinta? Può darsi Anche io che te ne di più E invece Perso Anche te che hai te anche io metterai di più eh Ti ho dato fiducia Io contro di te Chi ne fa di più In fila Banca tedesca Mettiamo di più Calciatore ma lower Downtown Abbey Una serie tv Quindi boom Ayer Salvate il soldato Ryan Meno dai Qua casca l'asino George Michael Mettiamo di più A parte che non mi devi aiutare Sono contro di te Tubercolosi Meno 3 milioni e 3 iPhone 6s Secondo me è lower Perché è un vecchio tele 5 milioni il 6s Te sei 8 eh Sono 8 vai Sta a te Sei io a Teresa May Ciao bella Ma perché non mi aiutavo Io ti aiutavo Ma siamo contro Anche io avrei messo meno Grave Sofia 33 mila e poco eh Te lo dico è un aiutino E infatti Ma ora non è che mi hai usato eh Non so cos'è Credo sia un film Basta guardare la grafica Sarà del 52 Eh infatti lower Mettiamo lower Andiamo sul sicuro 6 a 5 Ti stanno capitando Abbastanza facili Ma che via Interstellar Angry Birds Qui è tosta Perché Angry Birds Comunque è un videogioco Che è andato parecchio 6 a 6 risposte di fila Se sbagli Hai perso Attenzione Eeeh La zecca Angry Birds E scopa diving La Sofia è 8 Scopa diving Or fight club Brava La Sofia Sta vincendo Si si è a 9 Vabbè hai già vinto Secondo me è lower Siamo a 10 La Sofia da sola Potrebbe battere il record Chocolate cake Di più Torta al cioccolato 300 mila ricerche Chocolate cake Alex Ferguson È un allenatore di calcio Uh La zarda Oddio Eeeh La pecca Qui è abbastanza semplice Shakespeare E invece Il trabocchetto 14 no 1 a 0 siamo No Io con Sascio ho fatto 43 Due anni fa Hai fatto 14 Mi hai battuto Non sa come Non sa come Non sono portato Sei stata fortunata Non è fortuna Rifacciamolo insieme Ah si Eh Insieme Che figliacca Ma perché L'obiettivo è fare il più possibile Vabbè Dai Dobbiamo battere 18 Non essere contro Tom Hardy American Beauty Meno Code Computer Love Non so nemmeno cosa sia Almeno 10 milioni 20 9-11 Secondo me C'ha tante ricerche Perché le persone Comunque vogliono sapere Potrebbe essere di più Va bene Mai fidarsi Delle ragazze Violino O senna Violino Perdita di peso Chi è che lo cerca Dai 100.000 persone Devi andare in palestra Se vuoi dimagrire Spano Un cane Quindi di più Sulla sicurezza Ice climbing Meno Grande muraglia cinese 400.000 Passa Die hard È un film Ma è vecchio C'ha anche troppe ricerche Questa è una cosa Che viene molto ricercata McDonald Tante ricerche Senza paura American Beauty Ne abbiamo a meno Lo sappiamo Siamo a 9 Un passo dalle 10 Tottenham Squadra di calcio Pensavo di più Ma per fortuna è pari Jaguar E Type Le macchine Di solito sono tanto ricercate Però questo è un modello Molto specifico Secondo me è meno Secondo me di più Meno E la Sofia Ci avrebbe abbandonati Io metterei lower Però Secondo me è più di 100.000 E infatti Meno male Sono sensazioni buone Non so Neanche a quando risale Metterei lower 800.000 Guarda che Zabernan è un banger Olocausto È ricercato meno volte Di Skrillex Cartone animato vecchio Lower Siamo a 16 Siamo per battere Sbucci e Tudor Adidas Sì più Siamo d'accordo 16 milioni La prossima sarà di meno Molto probabilmente Adidas E abbiamo appena pareggiato Il record Cavaliari di Cleveland Secondo me di più 3 milioni Dai che si va per i 19 Meno 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 Sono d'accordo anche io Sei attento Questo è difficile Perché 160.000 È davvero Un numero basso Lower Mi fido Mi fido Mi fido No Allora fida sei di te Fida sei di te Non di me Se mi fido di me Metto lower Bella È sicuramente Tanto ricercato Più cercato Le soffragette 150 milioni LSD Per quanto possa essere Ricercato Non sarà mai Quanto 150 milioni E siamo a 23 Secondo me era 643.000 Allora meno Metto meno Uguale Giocatore dei basket Molto famoso Io azzarderei un Ayer Meno male Bravo Siamo a 25 E so via Prosecco Prosecco meno Meno Uguale Siamo a 27 Sofì Vado di Ayer Vado Sì Bravo 370.000 Mario Lemieux Meno Chi è Aspetta è questo 60.000 Siamo a 29 Incredibile Potrebbe essere un torneo importante Di tennis Facciamo Ayer 1.000.000 Siamo a 30 Insonnia Meno 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 Un milione Meno Sei sicura Meno Meno Sì 32 Oh mio dio No Se battiamo il record di 43 Bola tutto Osterità Meno 200.000 Oh mio dio Adele Qui andiamo sul sicuro Daccele facili Ti prego Per una volta Meno Questo meno Me lo ricordo Gay Tantissimo Soprattutto in questo periodo 2.000.000 Di ricerche Dai così che si vola Temple Run È un gioco Ma è molto vecchio Sono me meno Non c'è vecchio Cosa Non è possibile No Quanto siamo arrivati 36 36 di fila Vabbè Dai Abbiamo attuato il record di Sodele Bab Bubu Bubu Abbiamo raddoppato Abbiamo avviato il record Vuoi dire 36 è tantissimo Comunque non ci credo È Temple Run 6.000.000 Dai Angry Birds A 2.000.000 Temple Run 6.000.000 Di ricerche Adesso facciamo schifo Non supereremo mai 36 adesso Poi cino Dovevamo cadere sul Temple Run Sì L'idea pensato Meno di Austria Ma sono un po' io Parlami Fai tutto da solo Ho messo Ayer Chi era quel tipo Eravamo nella scia super positiva 36 era tantissimo Ma ci affegavamo Temple Run Mai sfiorati così tanti Cioè 43 con Sasha Era una roba Irraggiungibile Per quanto lo sapevo io Da sempre Dai l'ultima occasione È questa qua Gantanoma Mesa Nella prigione The Godfather Il padrino Ayer sulla fiducia Nooo È comunque un film Il padrino Ho capito Ma è sempre un film Paramount Picture di più E invece No impossibile Del tocco Ma a me Mi prende per il culo Non si può tagliare Ora stai smaltando eh Ora mi stai facendo sbagliare Cinema Paradiso John Lewis John Lewis ha di più Sicuramente 6 milioni Tipo il Netflix americano Lower 11 milioni E' uno della WWE Ma si guardava nel 20 A quanti Sti vostri Collab Sì Scontato Meno male Non ha la bocca Ma non so cosa sia Per questo Ti metto meno Sports Direct Sembra un supermercato americano Liquidation Must Go Aspetta Sono falliti questi 5 milioni Lower Sulla fiducia Ora chi ha che cerca Uno scioglilingua Come homelessness Si può neanche pronunciare Quella parola Ho fame Non so chi sia Proprio zero Eh vabbè Dai stay Hai fatto tre Quindi vediamo se riesco a batterti No non è che ho fatto tre io A K47 Dai no stay 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 Hai fatto tre finora Di più Atleti Di meno Siamo a due Questo è l'ultimo tentativo Qui in vittoria La madonna iTunes Non c'è modo di sbagliare Everton Meno Squadra di calcio Famosa Ma iTunes Non sei imbattibile Mercurio Ma è piano però Sono carico Old Trafford Lo stadio Famoso Molto famoso Dai ho detto meno E mi ascolta Nemmeno Cari amici Questo video di oggi Di Iron Lover Game Termina qua Abbiamo avuto comunque Il video di oggi È terminato 36 È il nostro record Attuale Se lo volete vedere In compagnia dei mates Mi raccomandano A 30.000 mi piace Ringrazio la Sofia Per la partecipazione Per il suo grande aiuto E le tante parole Che ha speso per noi Spolliciate Commentate Scrivete La campanina Ci vediamo Nel prossimo video Grazie per tutto Buro Mi hai battuto Hai fatto 14 Io ho fatto 8 Basta Adios